A Palazzo Doria Spinola si è insediato il nuovo prefetto di Genova, Renato Franceschelli. Nato a Napoli 63 anni fa e laureato in giurisprudenza, sostituisce Carmen Perrotta. Nell'incontro con la stampa si presenta come uomo del dialogo e della mediazione. La mediazione che oggi è, secondo me, l'aspetto più qualificante e anche personalmente più interessante del mio lavoro. Il prefetto di Padova dal 2017 è stato tra i primi in Italia a fronteggiare la pandemia a Voe e Uganeo. Abbiamo dovuto improvvisare, racconta. Non lo scoraggiano oggi le difficoltà che lo attendono sul territorio. Genova è una città con molti problemi, li leggevo sul giornale oggi, li comincio a vivere, però questo non ci deve spaventare più di tanto. Tra i suoi impegni, oltre a un elevato livello di contrasto al crimine, è anche grande attenzione alla sicurezza, in particolare sul lavoro. Nessuno ha una soluzione per ogni problema, le cercheremo insieme, le sperimenteremo, qualche volta saranno giuste, qualche volta si farà poi un passo indietro, rimportarlo e farlo con la consapevolezza di cercare una soluzione per un problema serio che è quello della sicurezza. Immigrazione e diritti civili sono tra i temi di cui si è occupato per il Consiglio dell'Unione Europea. Una sensibilità che emerge anche nei confronti delle fasce più deboli della popolazione. A Genova, come in altre parti d'Italia, per fortuna esiste una rete importante di sostegno e di volontariato che personalmente proverò a sostenere.